Ciao, mi chiamo Natale e in questo canale condivido con voi la mia passione per la lingua e la letteratura italiana. In questo video vorrei parlarvi del romanzo più famoso e più letto tra quelli scritti in lingua italiana, il romanzo I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Nel prossimo video troverete qualche espressione utile e interessante da questo romanzo che ho scelto di condividere con voi. Ho letto I promessi sposi all'inizio del 2023, ci ho messo tanto tempo, più di due mesi, soprattutto perché stavo seguendo il mio piano di leggere 5 pagine ogni giorno. A dire il vero non è una lettura scorrevole, ma mi è piaciuto tantissimo ed è diventato uno dei miei romanzi preferiti della letteratura italiana. Su Telegram ho lasciato il file pdf di questo libro. Scrivetemi nei commenti se avete letto I promessi sposi e se vi è piaciuto. Prima di proseguire con il video, se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale e al mio profilo Instagram, Natalia Impara l'Italiano. Manzoni nacque a Milano nel 1785. Manzoni ebbe il merito principale di aver gettato le basi per il romanzo moderno e di aver così patrocinato l'unità linguistica italiana. Il romanzo I promessi sposi fu pubblicato in una prima versione tra il 1825 e il 1827, rivisto in seguito dallo stesso autore, soprattutto nel linguaggio, fu ripubblicato nella versione definitiva tra il 1840 e il 1842. In Italia quest'opera di Manzoni viene studiata a scuola ed in effetti obbligare gli studenti italiani a studiare le vicende di Renzo e Lucia, che sono i protagonisti del romanzo, non fa altro che alimentare il loro odio nei confronti dell'opera. Ho sentito che c'erano addirittura le proposte di abolire la lettura di questo libro per legge, dettate proprio da una dichiarazione d'amore nei confronti della celebre opera manzoniana. Comunque ogni anno torna anche la discussione sull'utilità di studiare i promessi sposi per i loro contenuti. Ora mi soffermo un po' sulla trama e sui principali temi trattati nel romanzo. La vicenda si svolge in Lombardia tra il 1628 e il 1630, al tempo della dominazione spagnola. In quel periodo la Lombardia è straziata dalla guerra, dalla cristia e dalla peste. A Don Abongio, curato di un piccolo paese posto sul lago di Como, viene imposto di non celebrare il matrimonio di Renzo Tramalino con Lucia Mondella, della quale si è invaghito Don Rodrigo, il signorotto del luogo. Costretto dall'arroganza dei potenti a lasciare il paese natale con l'aiuto del buon frate Cristoforo, Lucia e la madre Agnese si rifugiano in un convento di Monza, mentre Renzo si reca a Milano con il vago proposito di ottenere in qualche modo giustizia, ma poi deve fuggire a Bergamo. Don Rodrigo fa rapire Lucia. Insomma, questi giovani ne hanno passate abbastanza. Non vi dico altro per non spollerare. Leggendo questo romanzo scoprirete se, dopo tante vicissitudini, Renzo e Lucia riusciranno a diventare marito i molli oppure no. Per la prima volta in un romanzo di tale successo i protagonisti sono le umili e non i ricchi e potenti della storia. Ma perché mi è piaciuto questo romanzo? Innanzitutto è un romanzo molto interessante e avvincente. La trama è avventurosa ma spinge a riflettere. È coinvolgente. Lo stile di scrittura non è noioso. Anzi, mi piacciono parecchi libri pieni di ironia e infatti l'ironia è molto presente nei promessi sposi. C'è un'ironia più semplice e di facile comprensione per il lettore. Un'ironia più complessa invece investe le istituzioni, i costumi, la cultura del secolo che costituisce lo sfondo storico del romanzo. Ma un ruolo importante gioca nella struttura del romanzo l'autoronia dell'autore, che assai spesso allude al proprio romanzo, alla propria opera di narratore, di creatore di storie e invita il lettore a non prendere troppo sul serio ciò che egli sta raccontando. Vi faccio un esempio. Già più di una volta ci è accorso di far manzionare dalla guerra che allora bolliva, sì che non abbiamo mai potuto darne più che un cenno alla sfuggita. Ora però all'intelligenza del nostro racconto si richiede proprio di averne qualche notizia più particolare. Sono cose che chi conosce la storia le deve sapere, ma siccome per un giusto sentimento di noi medesimi dobbiamo supporre che quest'opera non possa essere letta se non da ignoranti, così non sarà male che ne diciamo qui quanto basti per inferenarne chi ne avesse bisogno. Così arrivata alla pagina 207 ho saputo a che è rivolto il romanzo. Buono a sapersi. In secondo luogo è un libro che ho trovato molto interessante dal punto di vista storico e ricco di spunti storici. In fazze, come ho detto prima, ambientato tra il 1628 e il 1630 fu il primo esempio di romanzo storico della letteratura italiana. Purtroppo non conosco bene la storia italiana, quindi leggere alcune fazze della storia italiana anche che riguardano il breve periodo del 600 è stato molto utile e interessante perché ho sempre avuto un certo interesse per la storia. Per esempio Manzoni racconta le vicende dei personaggi in relazione all'epidemia di peste del 600 che arrivò in Italia nel 1629 e ridusse la popolazione del Ducato di Milano a un decimo di quella che vi era precedentemente all'epidemia. Causata probabilmente dalle numerose carestie, guerre e soprattutto del passaggio dei Lanzichinecchi, soldati con pessima fama per la distruzione e le malattie che portavano ovunque passassero. La considero una lettura molto attuale, soprattutto tenendo conto delle eventi e delle ultime due o tre anni. Sono passati tanti secoli ma i problemi rimangono uguali. A proposito ho letto un'intervista sul sito della casa editrice La Terza con Roberto Bezzocchi, docente di storia moderna dell'Università di Pisa, in cui l'intervistatore le fa una domanda. Quali fati e azioni rendono l'epoca dei promessi esposi vicina in qualche modo ai nostri giorni? Possiamo dire che tante deficienze sono ancora presenze nel nostro super mondo in cui pandemie e guerre ancora imperversano e si ripetono le solite ingiustizie di sempre. Risponde In effetti proprio l'intrazzigenza di Manzoni ha fissato nel romanzo delle discrezioni che sembrano eterne. Impossibile non pensare ad alcune drammatiche vicende che abbiamo vissuto nelle ultime anni quando rileggiamo le pagine grandiose sulla tragedia della peste e anche sullo smarrimento umano di fronte a calamità che sembrano inarrestabili. Insomma i promessi esposi contengono un messaggio sempre valido e attuale. E poi Roberto Bezzocchi nell'intervista dice che al centro del romanzo ci sono i diritti dei deboli contro le abusi dei potenti. Manzoni ha denunciato l'ingiustizia sociale, l'ingiustizia di genere, ha avuto il coraggio di rappresentare la chiesa cattolica nelle sue luci ma anche nelle sue ombre. Se vi interessa vi lascio il link in descrizione per leggere l'intera intervista. Vi consiglio vivamente di leggere i Promessi Sposi. Per quanto mi riguarda mi piacerebbe di rileggere questo romanzo un giorno. I classici, dicevo Calvino, sono quelli che si rileggono. E secondo me i Promessi Sposi è uno dei romanzi che meritano di essere riletti. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Spero vi sia piaciuto. Lasciatemi un mio piace e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e al mio profilo Instagram Natalia Imparla Italiano per non perdervi nessun video o post. Ci vediamo al prossimo video. Continuiamo con le espressioni. Non perdetevelo. Ciao!